Tantissimi meccanismi che poi nella storia sono sempre quelli, il multilevel e quindi ti dicono sì, devi invitare altri amici a giocare, c'è l'acquisto di queste prime cose per poter poi monetizzare, perché in realtà funzionano tutti che da subito, senza che tu abbia speso niente, entri i giochi e raccogli qualche centesimo, qualche millesimo di dollaro, alla fine non hai raccolto niente. Anche perché in molti di questi per poter tirare fuori i soldi dal gioco bisogna aver guadagnato almeno 100 dollari, rendendolo quindi impossibile per qualcuno che non ha fatto un investimento il poter tirare fuori i soldi, quindi già lì crea un meccanismo, per entrare devi pagare e questi soldi poi sono usati come? In effetti per poi pagare chi deve venire pagato, nella speranza che tantissimi non arrivano mai a livello sufficiente per venire pagati e quindi abbandonano il capitale là dentro, perché poi scadono eccetera eccetera. E questo è uno dei primi meccanismi, quindi invogliare, far vedere che funziona in effetti senza capire che non puoi estrarre il capitale perché non è una montare sufficiente e per raggiungerla montare sufficiente devi comunque pagare o invitare tre amici che pagano, comunque ciò che devi portare dentro è sempre superiore a ciò che puoi estrarre, quindi c'è questo come primo fattore, secondo fattore è il fatto che di base è difficile raggiungere il livello necessario per estrarre quello che serve e quindi molti abbandonano il tutto, perché comunque nessuno va a far causa per 100 dollari perché sicuramente un avvocato costa molto di più di quanto uno va a recuperare e poi molto spesso leggendo nelle termini e condizioni, queste cose erano tutte scritte, quindi quando uno accetta nell'entrare capirà che in effetti ha accettato delle condizioni che se le analizzava bene le vedeva poco possibili. Poi c'è un fattore della quantità dei token che ci sono in questi giochi, se è un numero finito c'è da capire come circolano, dove vanno, qual è lo scambio, se è uno scambio interno, se è uno scambio condotto da un unico punto di passaggio, un unico proxy, oppure se è un qualcosa già in una valuta che ha valore fuori, tipo Ethereum o qualcos'altro e quindi anche là a volte si creano delle situazioni in cui il meccanismo è reso più difficile.